2014 cosplay, abbiamo qui che sarà? Una principessa, chiediamolo a lei. Salve a tutti, io interpreto Esmeralda del Gobbo di Notre Dame, la zingara, voluta da tutti. Esmeralda, non l'avevo riconosciuta perché è perfetta, due parole su questo cosplay. Beh, io comunque questo cosplay sono riuscita abbastanza a formarlo da sola e comunque anche mi riusci di trovo nel personaggio, anche come carattere perché è una persona molto solare. Ecco, di questo ti ringraziamo e la regia può andare sul suo vestito, può scendere. Ecco, Esmeralda. Allora, Esmeralda, un saluto a tutti i cosplay e un messaggio. Beh, un saluto a tutti e buon proseguimento. Grazie tanto, ciao a tutti, Cristia TJ, salutatore del blog, Esmeralda. Salve a tutti. Ciao. Ciao.